...e generali di questa lettura della natura e dell'origine dell'immaginazione, su cui Paolo Cristofolini ha dato contributi importanti, non solo su Spinoza, ma anche su Vico, come sapete, e gli possono anche annunciare l'omaggio che gli sarà fatto dalla rivista che lui ha creato, la storia filosofica numero 19 del 2021 a culo di Antonella del Prete, dove voi troverete, dovrebbe uscire tra breve, una serie di contributi in gran parte dedicati a Spinoza. Ultima premessa è che so che ci sono anche studenti di Bologna che seguono questa conferenza, e io riprenderò appunto anche per loro temi che ho affrontato con loro durante il seminario di ricerca che abbiamo fatto quest'anno proprio all'Università di Bologna, dedicata alla seconda parte dell'etica. Ovviamente io mi soffermerò più su aspetti, diciamo, sui quali non ho potuto, o non abbiamo potuto insieme, perché era proprio un seminario, affrontare o approfondire. Ecco, allora, comincerei con dei disegni, se mi consentite. Così ho fatto durante il seminario e così faccio con voi. E vediamo se... eccolo qua. Con due modi, se volete, di raffigurare, di pensare, di rappresentare e in qualche modo anche di muoversi nell'etica. Il primo, quello che avete sulla sinistra, è in fondo una rappresentazione dell'etica nella sua totalità, dove ciascuna parte è distinta, vedete, dalle altre, la prima, la seconda, la terza, la quarta e la quinta, in funzione, poi, cercando di rispettare, così, ad occhio, la grandezza e la quantità delle proposizioni. Questa, diciamo, è la rappresentazione un po' canonica di quella che segue, appunto, la divisione in parti dell'etica. Scusi, professore, se la interrompo, ma non vediamo. La slide numero due. Allora, questo non va bene. Proviamo a tornare alla cosa di prima, se non vi dispiace. Vediamo se facciamo escape. Ecco, mi vedete meglio? Sì, ora sì. Si vede che quella funzione lì non andava molto bene. Perfetto, perfetto. Meglio? Vediamo un po' se riesco. Sì, sì, si vede bene. Io non vedo più voi, ma pazienza, cosa dobbiamo fare? Togliamo questo. Ecco qua, un attimo di pazienza. Ecco qui, benissimo. Allora, non so, torniamo alla slide. Questa slide, che forse adesso vedete meglio, vi dicevo che l'immagine che avete sulla sinistra rappresenta in fondo il libro dell'etica come lo conosciamo a partire dalla sua edizione del 1677 e poi tutte le edizioni su libro. Però c'è anche, credo, una possibilità di leggere l'etica in un altro modo secondo una visione concentrica delle parti e qui l'avete rappresentata in maniera grafica sulla destra del vostro schermo in cui, se volete, tutte le parti dell'etica costituiscono delle sottoparti o dei sottinsiemi di un insieme più generale che è costituito dal Dedeo cioè dal trattato su Dio e in questo caso si passerebbe da una generale così, ontologia, se vogliamo chiamarla, no? su Dio e poi, mano a mano, passando attraverso una specie di natural burella che qui ho indicato sulla limite della differenza tra la prima e la seconda parte alla parte seconda che è quella che ci interesserà di più. Allora, perché dico questo? Perché intanto credo che questo sia più fedele in qualche modo non solo a, diciamo, le possibilità anche oggi grafiche che si hanno di visualizzare l'etica ma in qualche modo più fedele alle intenzioni stesse di Spinoza se noi ci ricordiamo della transizio che fa da introduzione alla seconda parte dell'etica quella che ho indicato qui, no? Allora, andando poi ci tornerò su questa transizio perché vedrete per le sorti del nostro discorso oggi è molto importante. Allora, andrei avanti su questa, diciamo, sulla scia di questi grafi e proporrei di visualizzare questa volta la seconda parte dell'etica sempre secondo questo schema eccolo qua. Quindi ritroviamo qua diciamo sullo schermo la transizio che ci fa passare dalla prima parte dell'etica alle sue sette definizioni cinque assiomi le tredici prime proposizioni su cui abbiamo lavorato molto durante il seminario quest'anno poi la fisica o il compendio di fisico così chiamato che viene che è stato collocato da Spinoza tra la tredicesima e la quattordicesima proposizione e poi vedete sempre continuando in maniera deduttiva si arriva all'immaginazione dalle proposizioni quattordice e trentasei per poi trattare della razza delle nozioni comuni della scienza intuitiva e finire con le ultime due proposizioni e scoli dedicati al rapporto tra volontà e intelletto ecco perché io in fondo mi scuso se comincio questa conferenza di filosofia con dei disegni ma perché in fondo insisto su questa maniera di leggere l'etica perché in fondo e io comincerei proprio da qui il movimento generale dell'etica della seconda parte è in qualche modo una prospettiva interna alla prima parte perché dico questo perché Spinoza nella nella famosa transizio di cui vi ho appena accennato avverte il lettore gli dice la cosa seguente passo ora a spiegare le cose che hanno dovuto seguire necessariamente dall'essenza di Dio ossia dall'ente eterno ed infinito non tutte però abbiamo infatti dimostrato nella proposizione 16 della prima parte che da essa devono seguire infinite cose in infiniti modi ma quelle soltanto che possono condurci quasi per mano alla conoscenza della mente umana e della sua suprema beatitudine ecco stando a questa avvertenza di Spinoza dobbiamo in qualche modo rileggere la o leggere la parte seconda come una parte interna se volete alla famosa proposizione 16 che rileggiamo se non altro per la bellezza che ci consegna no dalla necessità della natura divina devono seguire infinite cose in infiniti modi cioè tutte le cose che possono cadere sotto un intelletto infinito bene tutte le cose che possono cadere sotto un intelletto infinito sono ovviamente non sono trattate tutte ma una parte di queste è rappresentata appunto dalla seconda parte dell'etica di cui quest'idea della concentricità no grafica delle parti allora in che cosa consiste questa diciamo derivazione e concentrazione e anche scelta no che fa Spinoza in questa deduzione infinita dalla necessità della natura divina in fondo si tratta lo riassume in maniera molto così sintetica di passare dalla dottrina degli attributi degli attributi infinito di Dio a due attributi la cogitatio proposizione prima la cogitatio è un attributo di Dio e proposizione due all'estensio all'estensione che è anch'esso un attributo di Dio i due suoi attributi che ci sono dati conoscere che sono parte no certo non torniamo su tutta la questione dei rapporti tra attributi ma che sono parte che costituiscono meglio costituiscono gli attributi infiniti di Dio questa derivazione passa questa trattazione derivazione passa attraverso l'uso dei modi infiniti immediati immediati e immediati e questo come sapete è un crucio perché sulla questione dei modi infiniti immediati e immediati la dottrina spinoziana è in qualche modo lacunare lacunosa scusate perché come sapete ricordo qui semplicemente la dottrina il movimento quiete è il modo infinito immediato dell'estensione così come l'intelletto infinito di Dio è il modo infinito immediato del pensiero e dei modi infiniti immediati della scusate dei modi infiniti immediati conosciamo per quello che ci ha detto Spinoza invitato a rispondere a una domanda nella lettera 64 che cosa intende per modi infiniti immediati da quello della facchia stotius universi che noi ritroviamo sotto altra veste nella fisica nell'ultimo lemma nel settimo lemma del compendio di fisica ma ritroviamo anche il modo infinito immediato del pensiero sotto la veste dell'idea di Dio no? Rileggiamo se rileggete le prime proposizioni della seconda parte dell'etica ecco che compare sotto altro nome l'idea di Dio cioè l'intelletto infinito di Dio bene questi passaggi se mi permettete questa parola ammesso che siano passaggi ci devono portare a pensare a dedurre in qualche modo i modi finiti i modi finiti del pensiero cioè le menti e i modi finiti dell'estensione cioè i corpi questo è il movimento di tutta la seconda parte dell'etica no? E non lo dico solo io ma c'è unanimità nel dire nel constatare che questo movimento che accompie almeno la prima parte della seconda parte dell'etica no? della natura e origine della mente almeno le prime tredici proposizioni hanno qualcosa di vertiginoso e per questo forse anche affascinante ma anche difficile e oscuro per non dire a volte problematico questo passare dall'infinità degli attributi attraverso vedremo gli infiniti i modi infiniti immediati e immediati verso i modi finiti e le loro idee e ricordo che questa la mente concepita come idea del corpo proposizione tredici poi sarà affrontata in sede di immaginazione come l'idea dell'affezione del corpo quindi il passaggio ai modi finiti non è semplicemente un passaggio alla finitezza dei modi ma è anche un passaggio questo lo vedremo lo vedremo molto da vicino alle affezioni del corpo ecco sento delle voci se ci sono delle domande interrompete non abbiate paura di interrompere quindi vedete si tratta di un passaggio interno se volete all'ontologia ovvero dall'eternità degli attributi di Dio alla durata in Dio del finito in quanto mens e corpus cioè si tratta di transire per utilizzare la parola utilizzata da Spinoza dall'ontologia all'immaginazione non è che stanno su piani diversi uno interno all'altro dall'ontologia all'immaginazione ma appunto di una immaginazione è come parte dell'ontologia cioè come idee inadeguate o immaginative sono deduzioni che in qualche modo appartengono già alla prima parte dell'esito allora se così stanno le cose se così a meno e questa è la prospettiva nella quale noi ci situiamo oggi allora io credo che possiamo tentare di rileggere in qualche modo tradurre se mi consentite questa parola la famosa proposizione 16 nel suo equivalente per la seconda parte e io lo direi così cioè cosa vuol dire il suo equivalente per la seconda parte cioè la la proposizione 16 intesa riletta a partire dell'attributo estensione ed a partire dell'attributo pensiero allora cominciamo dal pensiero dalla necessità che cosa cosa significa la proposizione 16 nella seconda parte significa la cosa seguente da e sto parafrasando la proposizione 16 dalla necessità della natura pensante devono seguire infinite menti in infiniti modi cioè tutte le idee che possono cadere sotto una mente infinita attenzione non dico intelletto infinito adesso dico mente infinita perché 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 secondo me lo dobbiamo dire in questo in questo su questo io concordo con Filippo Minini cioè sull'idea della necessità logica sistemica dello spinosismo di nominare di nominare il modo infinito mediato del pensiero che come sapete Spinoza non cita non ce ne dice nulla ma ci deve essere l'equivalente nell'attributo pensiero del modo infinito mediato dell'estensione cioè dell'individuo di tutti gli individui che compongono l'universo e per comodità se mi consentite decido di chiamare questo luogo logico la mente infinita perché non l'intelletto che è il modo infinito immediato del pensiero perché perché la mente infinita deve constare deve essere costituita non solo dalle idee adeguate ma deve essere composta essere costituita anche da tutte le idee inadeguate che non sono fuori dal pensiero divino sono dentro capite quindi la mente infinita di Dio non è un'altra cosa dall'intelletto ma è la sua piega mediata è la sua espressione mediata e questo passo lo dobbiamo fare perché se no non si capisce non riusciremo mai a capire come passiamo dall'infinito ammesso che si passi secondo me non si passa perché si è già ma per riuscire a capire in come e perché le idee inadeguate sono considerate idee parziali non idee false ecco quindi la prima lettura della prospettica della famosa celeberrima proposizione seggi magnifica proposizione seggi che il guru considerava l'architrave di tutto si aveva ragione anche Cirnaus era ammirato da questa proposizione allora passiamo all'estensione seguendo il filo delle proposizioni della seconda parte io sto commentando la seconda parte non ho altra ambizione ora come dobbiamo intendere la proposizione sedice ora dopo aver letto le definizioni della seconda parte nel modo seguente dalla necessità della natura estesa di Dio devono seguire infiniti corpi in infiniti modi aperta parenti cioè tutti i corpi che il movimento quiete può distinguere e modificare anche qui attenzione è ovvio che tutto ciò che il movimento quiete cioè il modo infinito immediato dell'estensione distingue lo distingue immediatamente cioè non solo attraverso tutti i corpi ma attraverso i suoi infiniti modi cioè le affezioni dei corpi le modificazioni dei corpi quindi l'universo questo individuo composto da tutti gli individui è sì composto costituito degli infiniti corpi che devono essere seguiti dalla natura estesa di Dio ma deve anche contemplare tutte le sue infinite modificazioni e queste infinite modificazioni sono mediate da che cosa? dall'universo stesso cioè dal modo infinito mediato dell'estensione mi seguite? bene questo è il quadro generale che ci permette di rispettare di passare di transire da questa ontologia da questa scienza di Dio no? che è la prima la prima parte dell'etica la seconda però ci costringe anche ad esplorare e qui io sarei prudente forse non più che esplorare appunto ciò che in poche righe Spinoza ci fa attraversare molto rapidamente ovvero i modi infiniti mediati ovvero la mente infinita ovvero l'univers i facchies totius universum e la fisica perché solo attraversando i modi infiniti immediati e il compendio di fisica che ne dipende solo così noi possiamo rispondere alla domanda della natura e dell'origine dell'immaginazione capite? non è che dopo la fisica si comincia un'altra etica no o si comincia l'epistemologia come si chiama no? no la fisica permette di continuare la deduzione è per quello che è messa lì tra la tredicesima e la quattordicesima proposizione ad esplorare che cosa? l'idea del corpo se io voglio conoscere cos'è una mente devo conoscere cos'è un corpo così dice Spinoza e così dobbiamo fare c'è vedete tra i vari corrispondenti amici di Spinoza ce n'è uno particolare c'è poco da fare e questo è il famoso barone Cirnaus che seguiva molto attentamente l'evoluzione dell'etica di Spinoza e in particolare della fisica perché Cirnaus autori della medicina mentis e della medicina corporis inventore della porcellana secondo metodi che i cinesi conoscevano la porcellana già da parecchi secoli Cirnaus è arrivato a un altro procedimento senza passare attraverso la sapienza cinese ora Cirnaus è molto interessato alla tirvia dei corpi di Spinoza moltissimo anche perché conosce perfettamente quella di Cartesio conosce Leibniz è in corrispondenza con Leibniz e ha capito anche che Spinoza non la pensa come Cartesio e in una lettera la lettera 63 che Mignini rinumera secondo il numero dei carteggi perché Mignini ha un'altra numerazione però è la lettera 63 diventata nell'edizione di Mignini 75 la pagina 1487 Cirnaus fa una domanda molto interessante a Spinoza vediamola insieme eccola qua posto che l'estensione concepita per se stessa è indivisibile immutabile ti chiedo a quale condizione possiamo dedurre a priori che possono derivarne tante varietà e di conseguenza attenzione l'esistenza della figura nelle particelle di qualche corpo le quali tuttavia in qualsiasi corpo sono varie e diverse dalle figure delle parti che costituiscono la forma di un altro corpo Cirnaus è il solo a porsi la domanda che stiamo riponendo oggi adesso si può dedurre dalla natura dell'estensione attributo divino indivisibile immutabile eterna non solo i corpi ma le affezioni quello che lui chiama le figure in particolus cioè le modificazioni infinitesimali dei corpi le figure delle parti ecco teniamo a mente questa 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 letta non è la sola domanda che Cirnaus fa a Spinoza le pone altre purtroppo per noi Spinoza non risponde su questo punto siamo nel gennaio del 75 e Spinoza che ha finito l'etica la vuole anche pubblicare su questo punto dice che non ha messo ordine abbastanza nella materia e qui sembriamo arrivati a un vicolo cieco perché il punto sollevato da Cirnaus a detta di tutti gli interpreti che si sono interessati a questo che si atteggia alla fisica di Spinoza è in realtà cruciale in realtà cruciale perché dal dettaglio dei come passo dal dettaglio dei corpi derivandolo dall'estensione infinita dell'attributo Spinoza non risponde però ha composto l'etica e quindi quando parlo di esplorare questa via non può essere fatto che attraverso l'etica stessa non c'è altro modo perché Spinoza appunto rinvia la domanda o la domanda o scusate o la risposta viene a complemento dell'etica che lui vuole pubblicare che reputa finita o è già contenuta in essa e possiamo tentare almeno di abbozzare di esplorare una risposta se così è allora siamo in qualche modo costretti vedete a seguire Spinoza nell'etica come a dire a seguire a traccia questa questione ovviamente non lo dico così gratuitamente perché perché l'immaginazione è la prima determinazione della natura e dell'origine della mente stessa capite l'immaginazione è la prima determinazione della natura e dell'origine della mente è la prima risposta che Spinoza dà al titolo della seconda parte dell'etica qual è la natura della mente e qual è la sua origine e comincia dall'immaginazione cosa vuol dire che l'immaginazione è la prima determinazione della natura e dell'origine della mente da qui il titolo che ho dato alla conferenza lo è in quanto questa l'immaginazione segue l'ordine comune delle connessioni del corpo capite ed è questa la via che si tratta di seguire di un'immaginazione come parte della natura e dell'origine della mente in quanto questa segue l'ordine comune delle connessioni del corpo ma per fare questo dobbiamo veramente rinunciare a come dire una propensione naturale che abbiamo tutti io compreso ovviamente anche commentatori interpreti rinunciare a una prospettiva primo antropocentrica sulla conoscenza e sull'immaginazione l'immaginazione non è una facoltà della mente non è una parte della mente umana è un modo di produrre idee e questo alla luce della famosa proposizione 7 dell'ordine della connessione dell'idea che è la medesima cosa che è l'ordine della connessione delle cose l'immaginazione è parte di questa connessione non sta da un'altra parte e come parte di questa connessione non è una facoltà di una certa specie di viventi che chiamiamo uomo certo gli uomini immaginano questo sicuramente ma come concatenazione di idee di affezione di corpi dobbiamo generalizzare l'immaginazione come una certo tipo di concatenazione una concatenazione parziale di questa connessione di questo ordo e connessio parziale dice Spinoza le idee inadeguate sono parziali e perché lo possiamo affermare con certezza e perché dobbiamo assolutamente credo abbandonare una prospettiva antropocente una prospettiva trascendentalistica sulla conoscenza ovvero che la causa di un'idea è sempre un'altra idea e mai il suo ideato di un altro attributo in questo senso non c'è nessuna forma di empirismo in Spinoza la causa di un'idea non è il suo ideato è un'altra idea così come la causa di un corpo è un altro corpo quindi bisogna la difficoltà è cambiare proprio di prospettiva no nel modo di concepire l'immaginazione il primo genere di conoscenza come viene chiamato perché lo possiamo fare e lo dobbiamo fare beh io qui la risposta è se volete ancora logico ontologica ed è contenuta in un'altra in un altro luogo della seconda parte dell'etica cruciale lo era per Gerù addirittura Gerù ne fa come dire uno dei capisaldi di tutta l'etica eppure si tratta semplicemente di un corollario il corollario 11 della seconda parte che dice le cose seguenti famosissime no? da ciò segue che la mente umana è parte dell'intelletto infinito di Dio perciò quando diciamo che la mente umana percepisce questo o quello non diciamo altro se non che Dio non in quanto è infinito ma in quanto si esplica mediante la natura della mente umana ossia in quanto costituisce l'essenza della mente umana ha questa o quella idea e badate e quando diciamo invece che Dio ha questa e quell'idea non soltanto in quanto costituisce la natura della mente umana ma in quanto ha insieme all'idea della mente umana anche l'idea di un'altra cosa allora diciamo che la mente umana percepisce la cosa in parte ossia inadeguatamente questa è l'immaginazione l'immaginazione contenuta in quella che noi abbiamo chiamato la mente infinita di Dio in quanto pensa la nostra più un'altra cosa rinunciare alla prospettiva antropologica e vedremo che lo dobbiamo fare vuol dire applicare questa logica a tutti gli enti pensanti e tutti gli enti sono più o meno pensanti tutti animati come dice nello scoglio della proposizione 13 cioè poco dopo ogni cosa è costituita non solo gli uomini di corpi di corpo e di mente e quindi vedete l'immaginazione non è una facoltà solo non è una facoltà umana è un modo di produrre idee nella mente di Dio allora se le cose stanno così se le cose vanno lette in questo modo e soprattutto non vanno lasciate cadere perché logicamente siamo tutti d'accordo abbiamo capito che rimanentismo è questo che la mente umana non è un'altra cosa dalla mente di Dio che il nostro intelletto non è un'altra cosa la stessa idea adeguata che noi produciamo che la mente umana produce è la stessa idea che l'intelletto di Dio produce allora se le cose stanno così dobbiamo passare ai corpi cioè a quella dottrina a quella compendio di fisica che si occupa appunto dei corpi senza i quali non è dato comprendere cosa Spinoza intenda per mente per origine e natura della mente ora ricordiamo subito una cosa fondamentale stranota ovvero la natura modale del corpo qualsiasi corpo composto semplice che sia il più semplice che sia il più composto che sia corpo individuo è un modo ovvero in natura non vi sono sostanze corporee in natura non vi sono sostanze corporee che cosa vuol dire questo che cosa vuol dire che in natura non vi sono sostanze corporee io direi una prima cosa che credo facilmente ricevibile che in natura non ci siano sostanze corporee che il corpo sia di natura modale vuol dire cioè che sia distinta dal movimento quieto come dice all'inizio Spinoza nella fisica vuol dire che non può esistere alcun corpo se non come modificato questo sta dicendo non può esistere alcun corpo se non come modificato cioè il corpo non è pensabile proprio perché è un modo senza le sue relazioni e qui devo dire siamo in tanti solo io aver seguito questa linea e soprattutto di non volerla mollare cioè di non cadere a un certo punto nel pregiudizio di fare questa tendenza che abbiamo di fare di un corpo una sostanza cioè di leggere dietro le affezioni del corpo qualcosa come un substratum qualcosa di inalterato per comodità per esempio per immaginare l'identità del corpo ma lascio da parte questa cosa il corpo non è pensabile senza le sue relazioni ovvero ovvero il rapporto cinetico che definisce la forma del corpo secondo Spinosa non può essere realmente separato dalle relazioni che intrattiene con gli altri corpi e questo è quello che emerge dalla definizione dell'attributo non la sto a rileggere la sola definizione dell'attributo dell'individuo scusate dalla definizione dell'individuo l'unica definizione contenuta nel compegno di fisica dove appunto l'individuo l'unione dei corpi è concepita nella sua relazione alla pressione come si dice dei corpi esterni un individuo non è concepibile se non attraverso queste relazioni esterne badate qui lo lo annuncio lo indico soltanto questa relazione questa necessità tra il corpo e la sua relazione cioè il corpo è sempre modificato o affetto Spinosa conserva questa questo onesso nella definizione della cupiditas prima definizione del catalogo degli effetti della terza parte ve la ricordo e poi la lascio da parte perché non ci interessa oggi il desiderio cupiditas è la stessa essenza dell'uomo in quanto è concepita come determinata ad agire da una sua qualunque affezione data cosa vuol dire quindi capire questa definizione vuol dire anche lì non essere tentati di fare del desiderio del conatus una piccola monade una piccola sostanza il desiderio va concepito come modificato da una sua qualunque affezione data e poi nell'esplicazio Spinoza dirà innata acquisita poco importa insomma per cercare di afferrare questo punto e soprattutto di non perderlo per strada perché se no si immagina qualcosa dell'immaginazione che Spinoza non dice mentre si tratta di capire quello che vuol dire potremmo dirlo con una citazione chiarissima della lettera 17 a Baling ogni corpo scrive Spinoza in quanto è modificato in un certo modo è parte di tutto l'universo vedete come il modo infinito mediato accompagna l'essenza del corpo ogni corpo in quanto è modificato in un certo modo è parte di tutto l'universo si accorda con il tutto ed è connesso in modo coerente con tutti gli altri quindi che cosa vuol dire che dicevo non può esistere alcun corpo se non modificato vuol dire che il corpo non è il supporto o il substratum di affezioni ma è il loro rapporto stesso è il loro rapporto stesso quello che Spinoza chiama costituzio la costituzione l'ingenium altre volte la fabbrica e poi ci torniamo su questo aspetto il corpo non è il supporto di affezioni ma è il loro rapporto stesso e se non è così torniamo a sostantificare a rendere sostanza ciò che non è il corpo è modo cioè affezione cioè affezione di affezione c'è poco da fare non c'è niente da fare il corpo è un'affezione un modo per modo mi intendo affezione e substanze per modo mi intendo le affezioni e la sostanza ma questo stesso modo corporalmente inteso è affezione di affezione concatenazione di affezione vedete che stiamo avvicinando non ci siamo ancora ma ci stiamo dirigendo verso quello che sarà l'immaginazione ma andiamo avanti non è sufficiente dobbiamo esplorare come dicevo innanzi questa questione la modalità del corpo che cosa vuol dire che il corpo è un'affezione di affezione vuol dire che è un modo modificato modificante non è uno star lì che aspetta di essere modificato no è l'azione stessa la capacità stessa di essere modificato e di modificare altri corpi è una potenza il corpo per Spinoza capite non è un ente è una potenza di essere affetto e di afficcere e modificare o meglio è la relazione stessa tra l'essere modificato da altri corpi e l'essere modificante altri corpi e questa relazione tra l'essere modificato e l'essere modificante circoscrive lo spazio il luogo in cui si scrivono le forme di vita di ogni corpo chi ha letto nella fisica i fondamenti della politica aveva ragione per primo fu Materon Materon ha aperto la via ma questa via si apre e non si chiude solo se concepiamo il corpo come questa potenza di essere affetto e di afficcere di modificare allora se con le cose le cose stanno così e credo che debbano stare così a meno di tornare immaginare corpi corpuscoli no e poi trovare le varie relazioni tra le varie cose questo non è la fisica di Spinoza allora dobbiamo porci un'altra domanda cioè l'accezione corporea dell'affexio l'affexio nella sua accezione corporea che cos'è? questa è la la questione che vorrei porre oggi l'affezione affexio cioè il modo nella sua accezione corporea come corpo che cos'è? ecco io credo che questa domanda si possa rispondere in modo in questo modo l'affezione del corpo è proprio ciò che Spinoza chiama vestigium traccia come modificazione come modificazione di un corpo e qui vi ricordo la definizione che troviamo al quinto postulato della compendio di fisica che dice e recita la seguente cosa quando una parte fluida del corpo umano è determinata ad un corpo esterno a spingere spesso su un'altra parte molle modifica la superficie di questa e vi imprime come delle tracce vestiglia non so perché Cristofrini non traduca il plurale ma preferisce il singolare del corpo esterno che spinge questa è la traccia questa è l'affezione la modificazione del corpo allora vedete che in questa definizione importante io direi importantissima perché su questa definizione viene costruita la dottrina dell'immaginazione se voi togliete dalla fisica spinoziana il postulato 5 crolla ogni tentativo di costruire geneticamente la nozione di immagine e quindi non potete accedere all'idea dell'immagine come affezione del corpo e quindi la deduzione si ferma si ferma già con la proposizione 16 badate quindi la sua importanza non è poco tant'è che io sarei dell'idea di considerare le vestigie il vestigium come una nozione comune della fisica come una nozione comune della fisica di spinote non una questione di dettaglio non ci sono dettagli nella fisica di spinote c'è quello che è necessario sapere dei corpi per poter passare all'immaginazione e questo sicuramente è un punto cruciale e badate vedete questa definizione questo postulato fa concorrere tre nozioni sulle quali adesso dobbiamo spendere due parole quella di fluidità quella di mollezza a cui noi aggiungiamo quella di durizia quella di durezza e questo lo può fare perché spinosa aveva dato una sioma prima di questo postulato la sioma famosa sioma tre che spesso viene un po' letto così impassando diciamolo chiaramente soprattutto tutti coloro che si sono interessati soprattutto alla fisica astratta di spinosa e poco alla fisica concreta pensando giustamente che spinosa avesse pochissimo sperimentato nella sua vita fisica concreta lui si interessava ai prolegomeni ad ogni fisica ben pensata ma non era un fisico come lo poteva essere circnaus huigens o boi no almeno certamente era un ottico ma non conduceva esperimenti magari li guardava pare che a lei andasse a seguire le dissezioni dei cadaveri ma lui stesso non praticava una fisica concreta quanto maggiori o minori sono le superfici con le quali le parti di un individuo di un corpo composto diriscono l'una all'altra tanto più difficilmente o facilmente possono esserne costrette a mutare posizioni e di conseguenza tanto più difficilmente o facilmente può accadere che lo stesso individuo assuma un'altra figura quindi chiamerò duri i corpi le cui parti aderiscono l'una all'altra per grandi superfici molli invece quelli le cui parti aderiscono per piccole superfici e fluidi invece quelli che le cui parti si molo l'una rispetto all'altra bene detto questo badate che l'assioma terzo è posto in una posizione molto interessante nella piccola fisica perché fa da spartiacque tra i corpi semplicissimi e i corpi composti ovvero subito dopo la definizione dell'individuo di cui vi ho parlato ricordato prima e questa è cruciale importante perché perché permette di pensare due cose fondamentali uno la diversità di natura degli individui ricordate la domanda di di Chernaus ma come puoi tu dedurre a priori dall'estensione la varietà dei corpi e delle loro nature ora questa triade duro molle fluido permette di pensare la natura degli individui ma soprattutto la natura come la natura di questi corpi come modo di regolare rapporti relazioni e questo adesso lo vediamo meglio duro molle fluido sono proprietà comuni a tutti gli individui o corpi composti così come le tracce di cui abbiamo letto la definizione i vestiglia sono nozioni comuni a corpi vedremo non solo umani e questo è molto facile dimostrare tuttavia e qui il punto che è importante se avessimo più tempo vi riporterei alla lettera 6 a Oldenburg dove Spinoza discute proprio su queste questioni di durezza mollezza e fluidità a proposito dell'essor von Niter di Boyle e se la prende un po' con Boyle che secondo lui non è un bravo filosofo perché non è un bravo filosofo perché durizia mollizia e fluiditas non sono summa genera della fisica non sono nozioni comuni della fisica in senso astratto cosa vuol dire che quando Boyle si pone la domanda se i corpi duri possono rientrare nella composizione dei fluidi sbaglio domanda perché prende per reali quelle che sono delle qualità relative dei corpi non sono summa genera sono proprietà relative dei corpi ovvero non caratterizzano la natura in sé di un corpo o meglio nessun corpo è in sé duro molle o fluido ma durus mollis fluides sono nozioni relative più o meno duro più o meno molle più o meno fluido e questo è importante perché permette di distinguere la fisica dalla fisiologia da un punto di vista fisico le ossa in sé non sono più dure di quanto lo siano in sé i muscoli o il sangue mentre lo sono da un punto di vista fisiologico nel qual quadro questa differenza di natura ha valore solo in una fisiologia ma non nella fisica nella fisica per Spinoza queste sono qualità seconde come si diceva nel diciassettesimo secolo no già ma allora se così stanno le cose se le cose che chiamiamo dure molli fluide non sono in sé niente di duro di mollo o di fluido se non relativamente a qualcosa di più duro di più molle di più fluido tuttavia e qui il punto importante indicano qualcosa che è assolutamente reale dei corpi e questo per noi devo dire per oggi è molto importante molto importante anche e soprattutto per capire cosa si intende per natura e origine dell'immaginazione torniamo alla questione che cosa indicano di reale molle fluido duro risposta non questo o quel corpo come si è provato anche a dire i commentatori leggendo la fisica di spinosa hanno detto sta commentando cartesio quando parla di duro parla di ossa no non lo dice mai non questo o quel corpo non questo o quell'organo ma un certo modo di determinare un certo modo scusate determinato di regolare rapporti tra i corpi questo indicano queste nozioni un certo modo determinato di regolare i rapporti tra i corpi o se preferite differenze tracciabili tra nature differenze tracciabili tra nature non a caso queste nozioni intervengono proprio per forgiare la nozione di traccia di vestigio quindi se durizia mollizia fluiditas sono proprietà a tutti i corpi di tutti i corpi composti relativamente ai loro rapporti e non ad una fittizia natura che li precede questo significa che natura e relazioni si determinano insieme e che la loro determinazione è unica infinitamente piccolo microfisica e infinitamente grande macrofisica o cosmologia si determinano a priori insieme come aveva intuito Schirr schnauz bene se questo è chiaro se la mollezza e la durezza e la fluidità non sono cose in sé dei corpi ma determinano relazioni tra i corpi allora che cos'è la mollezza Spinoza non lo dice mai ma dobbiamo poterlo dire dobbiamo poterlo capire come caratterizzare quello che lui chiama mollizia allora se diciamolo così se in assoluto proprio per la relatività stessa delle nazioni di durezza mollezza e fluidità tutti gli individui possono essere considerati più o meno molli è certo se è relativo lo sono tutti più o meno a secondo delle relazioni allora per mollizia intenderemo la capacità di un individuo ad essere tracciato la capacità di un corpo ad essere tracciato questa è la mollezza non è altro che questo perché non è un genere sommo della fisica ma una nozione che sta lì ad indicare come si rapportano i corpi tra di loro la mollizia è la capacità di un individuo ad essere tracciato e la durizia che cos'è? ebbè la durizia sarà la capacità minore ovvero la più grande resistenza dei corpi ad essere tracciati capacità capacità che gli conferisce quella di conservare tracce nonché di tracciare corpi meno duri rimane la fluiditas che sarà la capacità maggiore di ricevere tracce e la minore di conservarle capacità che gli conferisce quella di trasmettere tracce ad altri corpi basta rileggere il postulato 5 per convincersene conclusione su questo punto la proprietà generale di tutti i corpi composti di tutti gli individui è quella di essere più o meno tracciabili e traccianti e aggiungerei anche rintracciabili ovviamente attraverso una fisica concreta che ha bisogno di tracce io aggiungerei ha bisogno di immaginazione per cogliere i corpi che studia e allo stesso modo va intesa la differenza tra figura e vestigio anche qui si tratta meno di una differenza di natura quanto di una differenza di gradi la figura dei corpi le perdure scusate le figure dei corpi possono essere considerate alla stregua di grandi tracce e reciprocamente le tracce come delle piccole figure le piccole figure di cui parlava Cirnaus bene se possiamo allora andare avanti io quel tempo che mi rimane che non è molto mi concentrerei proprio su questa nozione di traccia che mi sembra essere il punto focale su cui concentrarsi per rispondere a cominciare a rispondere alla questione della natura dell'origine dell'immaginazione riprendiamo il corpo è un modo dell'attributo estensione un'affezione della sostanza estesa ma un corpo senza traccia non esiste un corpo senza affezioni non esiste ogni corpo è più o meno molle ogni corpo reale è più o meno molle in quanto tale sarebbe conoscibile se non fosse se non fosse tracciabile se non portasse traccia sarebbe magari anche conoscibile scusate mi sto confondendo dice un corpo senza traccia non esiste un corpo senza affezioni non esiste e proprio perché porta traccia in quanto tale è anche conoscibile conoscibile da una qualche mente che lo incontra attraverso il proprio corpo e questo ha come dire in obbedienza al principio di totale intelligibilità reale che prima Gheru e poi Materon in Francia ma io credo che questa idea sia incontestabile nello spinuzismo hanno affermato con forza se un corpo non avesse traccia rischierebbe di non essere conosciuto a priori ma siccome ogni corpo è tracciato dagli altri in relazione con tutti gli altri deve essere conoscibile magari è sconosciuto da più parte sono sconosciuti ma è di diritto conoscibile secondo punto la traccia l'affezione la modificazione del corpo è del tutto corporea ed è la ragione per la quale Spinoza l'introduce nella fisica non in un altro luogo e infatti la traccia il vestigium le vestigia i vestigia sono nell'ordine e nella connessione dell'attributo estensione anzi è grazie alle tracce che c'è che c'è connessione corporea affezione tra corpi se no attraverso che cosa altro detto questo bisogna subito aggiungere una cosa importante la traccia del tutto corporea ma non è un corpo la traccia non è un corpo e mi ricordo qui una lunghissima discussione che ebbi tempo fa con Chantal Jacquet a Parigi in un caffè non riusciva a non eravamo d'accordo su questo punto pensava che le tracce erano dei corpi sottilissimi forse facendo di Spinoza un epicureo un materialista epicureo ma ribadisco la traccia è corporeo ma non è un corpo nel senso rigoroso di un termino anzi io direi è un incorporeo se proprio vogliamo nel senso che sta sul corpo sta nel corpo stra tra i corpi ne distingue le figure ma non è un corpo anche sottilissimo ma allora che cos'è? che cosa è? perché è così importante per le sorte dell'immaginazione? perché fondamentalmente la traccia è una superficie un piano di riflessione in altre parole una potenza di rinvio una liquide che sta per qualcos'altro quel qualcosa che sta al posto di un luogo tenente se volete un luogo che porta al luogo di un altro corpo uno stare per un corpo B in un altro corpo A un concavo per un convesso un dentro per un fuori una presenza per un'assenza adesso ci vediamo su questi punti e quindi anche un presente per un passato e quindi anche un futuro un futuro come passato che ritorna ovviamente e su questa logica si costruisce l'immaginazione ovvero la memoria che poi è la stessa cosa memoria immaginazione allora se mi consentite se ho ancora cinque minuti posso Ludovica eh prego quanto vuole no non voglio tediare nessuno allora vi propongo questo un altro disegnino scusatemi gli studenti che mi seguono oggi sono abituati allora questo è diciamo il modo di raffigurare per cercare di capire esattamente le specificità dell'essenza della traccia no di cui abbiamo detto in fondo è una superficie un piano di rinvio qui avete il corpo A il corpo che ha affetto modificato dal corpo B vedete che gli lascia traccia la traccia è questa che ho chiamato E qui questo in rosso che vedete lasciata da B su A e C è il corpo fluido che permette di trasmettere dice Spinosa queste tracce però vedete in questa logica l'intacco di B in A è altrettanto importante quanto il distacco non c'è traccia se non perché B si distacca da A finché B è unito ad A e magari con lui forma un nuovo individuo come dice Spinosa non vi è traccia non vi è traccia dell'unione un'unione non ha traccia di sé la traccia è ciò che rimane della separazione quindi all'intacco ci vuole il distacco la pressione del corpo esterno ci vuole l'allontanamento la distanza il distacco ma questo fa sì che il corpo come modo come modo come affezione di affezione abbiamo detto va considerato come un situs vestighiorum come un luogo di tracce questo in fondo è il corpo vediamolo in maniera più questa volta con l'aiuto dell'etica questo è un disegno che non trovate nell'etica che ho fatto per voi per cercare di capire questa logica del mollo il corpo A che è intaccato dal corpo più duro o meno mollo invece ripassiamo all'etica nell'etica non trovate la figura 1 ma trovate la figura 2 che cosa dice la figura 2 quando un corpo mosso urta contro un altro corpo che è inquiete e che non può smuovere torna indietro per continuare a muoversi e l'angolo formato dalla linea del movimento di riflessione con il piano del corpo inquiete contro il quale è urtato sarà uguale all'angolo formato dalla linea del movimento di incidenza con lo stesso piano e Spinoza termina questa questo sioma 2 per questo per quanto concerne i corpi semplicissimi che si distinguono rispettivamente soltanto per il movimento e la quiete la velocità e la lentezza passiamo ora ai corpi composti eccoli i corpi composti eccoli qua figura 1 i corpi molli i corpi reali i corpi non rettificati dalla geometria i corpi non idealizzati dalla geometria non rettificati dalla durezza della geometria quindi questi due disegni figura 1 e figura 2 in realtà dicono la stessa cosa la figura 2 è la regola della figura 1 la figura 2 è la regola della figura 1 la regola astratta di una fisica concreta che la figura 1 rappresenta la traccia se ci pensate rileggendo la lettera la famosa lettera 9 ribattezzata 30 da Mignini pagina 1320 della sua edizione questo diceva Spinoza però non si vede ecco per piano voglio intendere ciò che riflette tutti i raggi della luce senza mutazione la stessa cosa intendo per bianco ecco l'immaginazione in quanto si dice bianco rispetto all'uomo che guarda il piano bianco ciò che percepiamo immaginando appunto con l'immaginazione attraverso il corpo attraverso le affezioni del corpo ma tutti e due sono piani di riflessione quindi e ho finito incorporeo del corpo la traccia è la marca dell'essere finito del corpo ovviamente ecco perché parlavo di passaggio no? deduzione dall'infinitezza dell'estensione la finitezza dei corpi l'incorporeo del corpo incorporeo nel corpo la traccia è la marca del suo essere finito dell'infinito infatti non vi può essere traccia così come della sostanza e della differenza degli attributi non vi può essere segno diceva Spinoza nello scoglio della proposizione 10 della prima parte e tuttavia benché non vi sia traccia dell'infinito è insita nella tracciabilità infinita dei corpi un rimandare che è lui stesso infinito e che cos'è questo rimandare infinito se non il modo infinito mediato dell'estensione stessa che noi immaginiamo come una serie ovviamente ma le serie non esistono siamo noi che le immaginiamo l'ordine la connessione delle idee delle cose come delle serie così le immaginava Leibniz rimane il fatto quindi che le tracce e i vestigia costituiscono le unità semiofisiche più semplici date in natura questo è importante le tracce e i vestigia costituiscono le unità semiofisiche più semplici date in natura quanto lo sono i corpora semplicissima nell'ordine dei corpi quanto lo sono i corpora semplicissima nell'ordine dei corpi allora finirei se mi consentite ancora 30 secondi con due domande due domande che abbiamo affrontato nel seminario con gli studenti quest'anno e qui che vorrei riproporre ma due domande a cui una forse la risposta la seconda più problematica più misteriosa non so come dire la prima è questa abbiamo detto che la traccia è una superficie di rinvio un rimando no un rimando tra il corpo A e il corpo B sul piano della traccia rimando tra due nature tenute insieme questo poi dirà la proposizione 16 certo tenute insieme dalla parte del corpo affetto domanda ma qual è stando alla dottrina degli attributi l'equivalente nell'attributo pensiero dell'affezione traccia cioè che cos'è in virtù dell'attributo della dottrina degli attributi cioè che ogni attributo è l'espressione di una stessa cosa e quindi ciò che ha una realtà modale estesa ha anche una realtà modale pensata pensante nell'attributo pensiero quindi la domanda è e la faccio pensando a Paolo Cristofolini così in modo anche di finire ricordando la sua figura in un articolo che intitolò la mente dell'atomo bellissimo anche lui si interrogava sulla natura pensante cioè l'equivalente del pensiero dell'atomo la nostra domanda è leggermente diversa non ci sono atomi spinosa la fisica spinosista non è atomistica questo ormai è dato per scontato però la domanda no io direi risponderei così l'equivalente nell'attributo pensiero della traccia non è altro che l'inferenza se A allora B non è altro che l'inferenza mentale se la traccia di B se la traccia in A allora il corpo B e questo vale per gli umani vale per i cani da caccia vale per tutti i viventi vale pure per le cellule se questo allora se A allora B cioè l'inferenza o la potenza che è la potenza stessa di affermazione dell'idea pensare vuol dire inferire passare da un'idea all'altra questo pensa spinosa e questo è una potenza e così sembra dire nel paragrafo 78 del trattato dell'intelletto del trattato dell'emendazione dell'intelletto scusate paragrafo 78 quando Spinoza fa l'esperienza di pensiero si chiede ma che cos'è un'idea considerata in sé sola andate andate a rileggere questo paragrafino che cos'è un'idea considerata in sé sola cioè cos'è la natura dell'idea e lui risponde è una sensazione l'idea l'idea in sé sola considerata è una sensazione ciò che Spinoza dice anche nell'etica badate proprio delle immaginazioni cioè delle idee inadeguate o parziali le idee delle affezioni in quanto si riferiscono alla sola mente umana sono dice Spinoza nella dimostrazione della proposizione 28 della seconda parte siamo in pieno nell'immaginazione dice sono come conseguenze senza premesse conseguenze di cui ignoriamo la premessa non che non ci sono le premesse ma le ignoriamo inferenze di cui non conosciamo l'idea di cui è di cui sono da cui sono causate e lo dirà di nuovo in questo senso nella dimostrazione della proposizione 23 della prima parte quando dice concludi Sive perché P percepire essere percepito vuol dire essere concluso percepire vuol dire concludere passare da una premessa a una conclusione questa è l'inferenza questa è la natura se volete pensante della traccia bene spero di aver mostrato no come perché noi dobbiamo considerare l'immaginazione come una parte della mente infinita di Dio secondo la logica che è stata data nel corollare della proposizione oggi non è una l'immaginazione non è ribadisco una facoltà della mente umana è semplicemente un funzionamento un certo tipo di connessione parziale ma questa parzialità appartiene al piano immanente della mente infinita di Dio e allora avevo detto una seconda domanda a cui a cui non rispondo ma che la lascio lì per finire se non ci fosse immaginazione mettiamo che siamo puri intelletti angeli vaganti nell'intelletto di Dio facciamo questa esperienza di pensiero se non ci fosse immaginazione se non ci fossero idee inadeguate ci sarebbero ancora corpi finiti ecco vi ringrazio scusate per la la lunghezza è stata veramente molto interessante se per lei va bene aprirei a una parte delle domande preferisce che le raccogliamo o che facciamo intervenire un'altra io ne avrei una per aprire le danze rispetto anche a queste ultime note che faceva cioè in particolare rispetto al rapporto tra immaginazione e contingenza che per Spinoza la lettura comune di Spinoza è che appunto non vi sia contingenza nel suo sistema però potremmo intendere come contingenti gli stessi corpi gli stessi modi finiti che non sono sostanza e rispetto al fatto lei ha detto se non ci fossero idee inadeguate poco fa ci sarebbero i modi finiti se ho capito bene e vorrei sapere dal suo punto di vista come colloca la questione della contingenza in rapporto al suo discorso sull'immaginazione allora guardi la contingenza in Spinoza prima prima della quarta parte non interviene parla lui parla di contingere non di contingenzia cioè ne parla molto nella seconda parte contingere ciò che accade questo sì ma il contingere di cui parla non è un contingere contingente è un contingere assolutamente necessario cioè che si esprime nel piano necessitaristico della prima e della seconda parte dell'etica quindi la domanda sulla contingenza viene poi la contingenza viene ridefinita nella quarta nelle definizioni della quarta parte dell'etica ma prima in qualche modo non rientrano nel piano esplicativo dell'immaginazione almeno non mi sembra non so se rispondo alla sua domanda sto spostando in realtà cioè le sto dicendo questa è una domanda da porre alla quarta alla quarta parte dell'etica che in effetti quella è antropocentrata nel senso in cui la contingenza è dovuta all'ignoranza umana sulle cause in questo caso in questo senso viene ridefinita l'immaginazione umana come come potente come di cui si può parlare di contingenza ma nella seconda parte non mi sembra se non con questo verbo contingere e che è l'accadere dell'affezione ma è un accadere necessario non è contingente mai grazie mille dunque c'è una domanda di Giovanni Croce e prego Giovanni poi ci sono le altre ma facciamolo per voi professore grazie avrei indefinite domande da farle però per non annoiare volevo chiedere alcune piccole cose allora la prima è anche i modi non esistenti sono inclusi nel modo infinito mediato dell'estensione o di qualsiasi altro attributo ed è una cosa che mi interessa particolarmente poi se i modi infiniti immediati possono essere infiniti questo me lo sono sempre chiesto e infine tanto per essere brevissimo un corpo ha la potenza della conoscibilità cioè voglio dire mettiamo un meteorite nello spazio infinito che non ho mai visto nessuno ha mai visto ha però in potenza la sua conoscibilità in base alle ultime cose che lei ha detto mi fermo solo qui perché se no tolgo tempo agli altri grazie sì io comincerei all'inverso della terza la risposta è sì proprio per la sua tracciabilità se lascia traccia è conoscibile e infatti cosa fa la scienza di solito cerca la scienza sperimentale fisica cerca che cosa traccia di teorie matematici la dottrina la legge è scientifica è la misura in cui è verificata in qualche traccia la domanda più difficile è la prima perché lei va a toccare la proposizione 8 però io le risponderei è così sulla proposizione 8 guardi c'è studiamo in tanti addirittura così in modo di ricordare un altro amico c'è Vittorio Morfino che un giorno mi ha detto ma Lorenzo questa qui mica l'ha scritta Spinoza è stato Leibniz che le ha che gliel'ha inserito per fargli un dispetto no io non credo a questo però e credo che un inizio diciamo una prima luce per cercare di rispondere alla sua domanda che è che è dura sta nella nello scoglio ma non nell'esempio matematico che lui dà paradossalmente perché l'esempio matematico che lui dà tutto sommato è abbastanza chiaro ma in quello che dice appena prima quindi ricordo la proposizione che lei ha in mente le idee delle cose singole ossia dei modi non esistenti devono essere compresa nell'idea infinita di Dio come le essenze formali delle cose singole ossia dei modi sono contenuti negli attributi di Dio scoglio se qualcuno desiderasse un esempio per una più ampia spiegazione di questo punto non potrò certo darne nessuno se ricordi che gli era stato chiesto un esempio dei modi infiniti immediati del nella famosa lettera 64 e lui risponde e poi aggiunge non potrò certo darne nessuno che spieghi in modo adeguato la cosa di cui si parla in quanto essa è unica ecco questo unicum di cui che lui che cos'è questo unicum di cui parla io tenterei questa risposta o almeno questa questa ipotesi se questo unicum è proprio il modo infinito mediato del pensiero è unico la mente infinita di Dio è unica ed è quella che determina non temporalmente logicamente ciò che dura e ciò che non dura è quello che lo intende perché la durata non è nell'essenza della cosa come sappiamo e nella serie guarda caso perché l'esistenza non è implicata dall'essenza ma la serie sappiamo che è un'immaginazione ma la serie sta nel mediato nella mediazione quindi io le rispondo così ma perché la domanda va apposta che questo unicum sta a fare sta a indicare proprio questa mediazione del modo infinito e che effettivamente è unico per Spinoza è anche ab eterno è unico e infinito nello stesso nello stesso modo perché è valido per ogni per ogni contingere ecco il contingere è unico ma è anche infinito siamo noi che lo temporalizziamo siamo noi che lo Leibnizian le facciamo Leibniz di questo non esistente ma in Dio non c'è tempo non c'è durata siamo noi che immaginiamo non esistenti perché concepiamo cose che non durano in base a una durata che comporta l'immaginazione dei corpi è per quello che io vi ponevo la domanda finendo ma se non ci fosse immaginazione ci sarebbe ancora il finito la risposta è no c'è Lorenzo Gatti c'è una terza domanda che ho posto Giovanni se me la puoi ricordare rapidamente se i modi infiniti immediati possono essere infiniti però mi sembra che no sono unici attenzione in modo infinito mediato come il modo infinito immediato è unico ma si declina in ogni attributo infatti no 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 avevo capito ma è unico come è unica l'idea di Dio e lui insiste l'idea di Dio è unica le altre sono immaginazioni ecco scusi su questo proprio poi non vorrei dilungarmi però riguardo gli attributi ad esempio lei nel suo libro nell'ultimo libro che ha scritto su Spinoza scrive gli altri infiniti attributi sono concepibili ma non percepibili pensabili ma non conoscibili ora senza togliere altro tempo su questo incontro però le scrissi tempo fa ma di questo magari ci possiamo anche magari scrivere che la tesi di Mela Mezz era che l'attributo del pensiero fosse un io lo chiamo super attributo secondo la sua tesi però non voglio una risposta adesso però ovviamente anche questo era interessante proprio per i modi infiniti secondo me comunque mi fermo qui sì no diciamo la tesi Mela Mezz è già in Gerù sì io ho qualche dubbio su questo super il superpotere che di fatto è un modo per come dire introdurre una trascendenza nella e quindi una differenza ontologica negli attributi non è più questo il monismo né l'immanentismo Spinoso non è più questa la scommessa di pensiero che fa Spinoso secondo me questo è un modo per introdurre una forma di idealismo di neoplatonismo come come poi fa Gerù in qualche modo no perché diciamo il privilegio dell'attributo pensiero è quello di pensare tutti gli attributi no quindi avrebbe più contenuti degli altri poi sul fatto che gli attributi siano concepibili e devono essere concepiti come infiniti questo questo credo dipenda proprio dalla logica della definizione di Dio questo lo richiede proprio la potenza assoluta non può che essere così poi è vero ne conosciamo solo due ma questo solo non è privatizzato nel senso che questi due attributi ci fanno conoscere la sostanza totalmente e quindi lei ha ragione di andarmi a cercare no diceva lei che fa sta rimettendo canti in Spinoza facendo diciamo della sostanza qualcosa di pensabile non conoscibile in realtà non è così perché è una differenza indifferente se noi conoscessimo altri attributi di Dio questo non aggiungerebbe nulla a quello che conosciamo del pensiero e del così come una super intelligenza extraterrestre non porterebbe nulla di filosoficamente rilevante rispetto a quello che rispetto alla potenza della mente umana non è che una super intelligenza aggiungerebbe qualcosa di essenziale grazie Lorenzo Gatti prego io seguo sempre molto volentieri il professor e dunque ne approfitto per più che altro per una curiosità probabilmente una comune sensibilità rispetto alla dimensione visiva che si nota sempre leggendo Spinoza e volevo chiedergli questo appunto se questo passaggio a un certo punto si sa che Spinoza ha sperimentato come dire varie modalità di esposizione del suo pensiero nel trattato dell'elementazione dell'intelletto prima ma anche sotto forma di qualche dialogo persino con dei tentativi anche di abbozzi di di sistema geometrico nel breve trattato alla fine raggiunge questa perfetta cosa che poi noi appunto cerchiamo di visualizzare perché c'è questo more geometrico che poi è un ordo geometrico per Talluni ma comunque sia ha un effetto indeniabile su non solo coloro che frequentano diciamo le arte visive come ci può essere per chi è sensibile alla geometria ma anche per chi legge il lettore stesso si trova coinvolto nell'oggetto libro dunque c'è un supporto fisico nel libro stesso e nel come si offre al lettore nella sua come dire partizione dei vari io mi sono divertito a contare le varie partizioni che la tipografia aveva in qualche modo lasciato sul testo e ho contato 615 partizioni intese proprio come la separazione dalla parte scritta dalla parte bianca della pagina per quello mi piace moltissimo il riferimento che fa Lorenzo che ha alla lettera di Simone De Vries perché è proprio l'esempio che mi ha toccato moltissimo nel mettere la definizione in questi due rapporti cioè praticamente si definisce piano ciò che riflette diciamo la luce dunque sottointeso l'interezza di ciò che viene riflesso però lo si chiama lo si definisce bianco per noi che lo guardiamo questo piano è così la pagina la pagina noi prima che fosse in qualche modo ferita o colpita dal dal tipografo era bianca ma era semplicemente un bianco indifferenziato una specie di bianco neutro dal momento in cui lo sappiamo perché lo dice Oron Abad dal momento in cui si ha una divisione si ha una si ha senso ecco il senso appare quel momento lì e il bianco in qualche modo si differenzia e dunque abbiamo 615 partizioni ma abbiamo anche tra ogni partizione dei bianchi e tutti quei bianchi non hanno lo stesso peso cioè io dopo che ho letto i primi capitoli o le prime proposizioni dell'etica soprattutto a prima lettura quando le letture si moltiplicano è chiaro che c'è una tracciabilità anche del bianco che si fa per cui alla fine questo bianco non è più tale ma c'è nel momento in cui si va avanti in questo di primo achitto ostico testo perché non è certo spontaneamente offerto al lettore si va determinando un pensiero che modifica chi legge per cui cosa succede? c'è quell'effetto che è interessante che ho trovato molto bello che dicevi diceva il professor Vinci Guerra di questo vedere la traccia non già come sostanziale ovviamente ma come ciò che sta per dunque questo aliquid per qualche cosa altro e in questo senso lo ha notato il filosofo André Scala nelle prime definizioni dell'etica c'è un utilizzo da parte di Spinoza del della termine id no? questo intelligo id intendo per attributo ciò che dunque questo uso di un diciamo pronome tendenzialmente indefinito è ciò che innesca almeno nel mio caso la compresenza dei due momenti cioè di questo momento diacronico di un'attesa di ciò che verrà specificato poi nel testo stesso ma è anche ciò che indica perché id è ciò che nel momento in cui io pronuncio questa parola si confronta con lo spazio che ho davanti dunque è una specie di come tutti i deitici momento di ic e nunc che determina questa partizione nel testo e è bello che nel corollario undici della seconda parte quello che cita anche Zua Vizvili come il parlare lo spinoziano cioè io a un certo punto quando arrivo a quel punto della seconda parte dell'etica e entro in questa specie di linguaggio che mi costringe a pensare in un certo modo inferenziale appunto di Spinoza ecco che in qualche modo come dire la mia stessa lettura del testo dell'etica comincia a cambiare perché mi è inadati i primi strumenti e dunque è vero la traccia deve venire per forza nella fisica che viene subito dopo perché lo scoglio 13 diciamo la proposizione 13 è il suo scoglio sono quelli che possono subentrare una volta che inizio a parlare come si deve diciamo parlare lo spinoziano parlo lo spinoziano e posso anche godere della traccia che mi viene offerta nel libro stesso che ho sottomani non so se hai professore hai sentito anche questo piacere di vedere come dire nella nella la sciutezza di queste proposizioni di queste definizioni anche uno spazio dato appunto a tutte le interpretazioni che separano due proposizioni o due dimostrazioni o una definizione è una sioma ma c'è una specie di differenziale spaziale che si si inserisce in questo non so se c'è una mia proiezione lebbiziano se invece è no sì grazie Lorenzo allora intanto ricordo per i presenti che Lorenzo è un che io ho conosciuto tanti anni fa quando ero a Milano e mi aveva introdotto nel suo studio come artista che già lavorava su delle composizioni delle planimetrie degli delle come definirle delle pianificazioni dell'etica su un piano appunto su un foglio che poi Lorenzo potete andare a vedere sul suo sito faceva vedere uno intuito a un solo colpo di vista e questo mi aveva molto accomunato al suo approccio diciamo a questo tipo di pensiero io ricordo io stesso quando ho cominciato a studiare la prima cosa che ho fatto ho fotocopiato l'etica l'ho ritagliata per proposizioni e l'ho incollata sulla parete della mia camera prendeva tutto lo spazio perché io volevo vedere la mente di Spinoza capite il libro non mi interessava io volevo sapere come lui aveva pensato questa cosa qual era il suo spazio logico come si circolava in questo spazio e oggi si può fare oggi solo i lavori di di Lorenzo Gatti sono interessantissimi in questo questa questa visione di concepire ma anche vedere su un foglio ma vedere cosa poi ma per esempio vedere io ho proposto questi cerchi concentrici ma questi cerchi concentrici sono semplicemente la tela di fondo dell'etica perché poi ci dobbiamo disegnare tutte le arborescenze capite cioè tutti e Lorenzo mi capisce benissimo cioè ci dobbiamo disegnare proprio tracciare come io passo dalla definizione tal dei tali arriva a dimostrare tal dei tali e quelli sono dei tracciati sono dei percorsi sono delle letture di quello che io chiamo il labirinto dell'etica perché per me l'etica è un labirinto è un grafo sul quale si intrecciano le varie vie non solo quelle che ha tracciato Spinoza che quelle sono appunto rintracciabili matematicamente in maniera fedelissima alla mente di Spinoza ma poi ci sono i percorsi del lettore in questo labirinto che sono altrettanto se non ancora più interessanti perché siamo noi siamo noi determinati da questo labirinto ed è questa la comprensione dell'etica non ce n'è un'altra l'etica è nella sua lettura e per quello che è così importante interrogarsi come fa Lorenzo è sulla sua scrittura perché determina questa scrittura determina i modi in cui la si legge produce senso produce modificazioni produce effetti come pensava Deleuze no? sono dei colpi di cannone certe definizioni sono delle esplosioni da lì uno viene rimbalza su un'altra un'altra parte e traccia un'altra intuitivamente no? secondo queste velocità di cui parlava Deleuze passa da un piano all'altro ma sull'orizzonte su un piano immanente come effetti di potenza ecco lavorare sull'aspetto visuale io concordo ma Lorenzo lo sa sono tanti anni con questa potenza del segno del disegno che orienta lo sguardo e quindi permette di vedere non solo di capire ma anche di vedere va bene la ringrazio molto c'è una domanda sulla chat non so se riesce a visualizzarla vediamo c'è una domanda di Salvatore Simioli che chiede professore si potrebbe dire che se l'inferenza è l'analogo nel pensiero di ciò che le tracce sono nell'estensione questa è però l'analogo della regola geometricamente rettificata mentre per una fisica delle idee che sia concreta l'analogo pensante della traccia diventa la suggestione non ho capito non ho sentito tutto quello che ha detto in più non trovo il testo eccolo qua se l'inferenza è l'analogo della regola e ci devo pensare glielo rispondo per iscritto perché non devo veramente non 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 lo so non adesso dovrei dovrei pensarci domanda interessante ma ci devo pensare c'è qualcun altro che vorrebbe intervenire no va bene allora professore la ringrazio molto per il tempo che ci ha dedicato e ringrazio anche tutti i partecipanti vi ricordo che è possibile iscriversi diventare socio della società sul nostro canale www.societaspinozona.it con il professor ci vediamo il 20 se non sbaglio a un altro incontro della società grazie ancora a tutti grazie ancora professore per questo intervento veramente molto interessante ringrazio a voi buona continuazione saluti a tutti arrivederci grazie a tutti Grazie.